Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video che alla fine è semplicemente un video, diciamo aggiornamento per parlare un po' di cosa è successo in questa settimana visto che non ho fatto video sul canale, vi prego di seguirlo, sarà abbastanza breve come video come avete visto in questa settimana non ci sono stati video, questo perché per chi segue la pagina facebook probabilmente lo sa già ho avuto problemi con hard disk che adesso sono risolti e quindi non avevo alcun modo di registrare, ho dovuto reinstallare tutto, bla bla bla, un casino che non vi sto a spiegare e in più avevo anche da studiare, quindi sia il tempo che non avevo di stare a sistemare tutto, sia il tempo che dovevo anche studiare quindi non avevo proprio tempo minimamente di portare niente in queste settimane adesso finalmente sono riuscito a sistemare tutto, quindi tutto a posto, l'hard disk funzionato correttamente ho reinstallato i programmi di editing, quello che mi serviva insomma per fare i video e quindi adesso posso tornare liberamente a far video ed è quello che farò quindi non preoccupatevi se non ci sono state video in questa settimana e vi invito a seguire la pagina facebook perché appunto lì ho fatto un post al riguardo dove ho spiegato la situazione e di solito pubblico sempre lì le cose quando succede qualcosa di importante quindi vi prego di seguire quella pagina perché serve, cioè serve perché se non riesco a caricare per qualche motivo un avvertimento sul canale lo scrivo lì, come in questo caso, quindi vi invito a seguirla quindi l'idea adesso che appunto ho sistemato questi problemi è quella di ricominciare appunto come ho detto a fare i video e oltre alle mode review che sto già portando volevo incominciare a portare onestamente qualcos'altro perché ultimamente sto portando solo mode review ma mi piacerebbe portare qualcos'altro però non so onestamente cosa visto che non ho veramente idea quindi se volete qualcosa in particolare ditemelo e vediamo se riesco bene per questo video direi che quindi è tutto noi ci vediamo al prossimo video che sarà sicuramente un video più serio appena reinstallo i giochi che appunto devo installare e vi rinvito nuovamente iscrivetevi alla pagina facebook se non l'avete già fatto perché lì scrivo veramente le cose importanti detto questo fatemi sapere cosa volete, che giochi volete e se volete qualcosa io mi metto Don Starve, ripeto per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima ciao ciao